Sì, abbiamo commesso qualche errore di troppo, quando eravamo in attacco non siamo riusciti ad essere efficaci, a concretizzare le opportunità che abbiamo avuto. Abbiamo sbagliato sotto questo aspetto, adesso in settimana lavoreremo per migliorare questo, arrivare preparati contro la Scozia. Abbiamo messo un grande focus questa settimana su entrare bene in campo, si vede che ancora dobbiamo migliorare, ma so che siamo sulla giusta strada, continuando così, con questa cattiveria agonistica, con questo lavoro duro so che possiamo arrivare al risultato. Adesso, domani sarà un giorno duro, guarderemo quello che avremmo sbagliato, cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato e aggiusteremo questi piccoli dettagli per la prossima partita. Ovviamente lavoriamo ogni settimana per vincere.